Benvenuti ad Auroa, l'incubatrice del mondo 2.0. Mi chiamo Jace Skell e vi stavamo aspettando. Siete stati invitati qui per innovare, inventare e creare. Ma vi chiediamo anche di fare la cosa più importante che potrete mai fare con le vostre vite. Qui, lontani dal resto del mondo, costruiremo gli strumenti per condurre il pianeta nel futuro. Un'economia completamente sostenibile, un ambiente fiorente, sicurezza nelle case e per le famiglie e una comunità in cui si onora l'innovazione. Le generazioni che verranno dopo potrebbero dimenticarsi di noi, ma la loro prosperità sarà tutta merito del nostro lavoro. Grazie per essere uniti alla Skelltech sua urbana. 7, 8, posto. 8, posto. Ispando a Katsun! Ispando a Katsun! Aspetta a Katsun! Udicetto! Datto daugno! Attraversai! Atruzzai... Oh, 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 oh. Oh, 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 porca puttura. Grazie. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grazie. Grazie. Cosa? Contatto, uno stile... 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 Qualcuno deve essere sopravvissuto. Stormcloud 1-1! Qui Weaver, ci siete! Passo! Qui Weaver, ci siete! Passo! Niente! Un cazzo! Contatto! Contatto! C'è stato il fuoco! Walker! Scusa, Weaver. Walker, che cazzo stai facendo? Scusa, Weaver. Scusa, Weaver. Scusa, Weaver. E' un'altra parte. Grazie a tutti. Sarei davvero sorpreso di trovare qualcuno vivo qui. Davvero disastro. Forse. Dobbiamo esserne certi. Herzog ci ha chiesto di portarle... Ma... Decisamente strappo. Vado a vedere cosa succede. C'è un... Vado a vedere cosa succede. Vado a vedere cosa succede. Mayday. Mayday. Qui Capoghost. Qualcuno mi riceve. Forte e chiaro Capoghost. Chi parla? Un'amica. Un Ghost mi ha dato questa radio. E questo Ghost è vivo? Capoghost. Puoi seguire il bianconiglio. Può scappare con la regina rossa. Dammi un aggiornamento. Può aspettare. Il tuo uomo sta ricevendo le cure necessarie. Segui la pista dietro le antiche rovine. La destinazione è nelle montagne tra due cascate. Ricevuto. Capoghost chiudo. Capoghost. 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 Grazie a tutti.